Musica Abbiamo voluto dare quest'anno una gratificazione ai migliori ragazzi di ogni ex prima e ex seconda dello scorso anno, le attuali seconde e terze, per dare una dimostrazione del fatto che la cultura in qualche modo premia. È la prima volta per noi e faremo sicuramente meglio nel prossimo anno. Piccoli geni crescono, questa è la piacevole sensazione che resta dopo il conferimento di una targa. Per l'occasione e per le difficoltà a reperire fondi, di un attestato su comune carta per fotocopiatrici che ha fatto risaltare le capacità degli studenti della scuola Corrado Melone di Ladispoli. Nessun ricco premio, se non una stretta di mano con il preside e un bacio dell'assessore alla cultura. Con le pochissime risorse che abbiamo non siamo riusciti a farvi un dono importante. In un comune dove non arrivano più fondi da nessuna parte, noi comunque cerchiamo di metterci la tutta. I tagli importanti che ci sono stati purtroppo cadono proprio sulla cultura, la scuola e il sociale. La scuola li ha premiati con un attestato che valorizzasse la loro bravura ottenuta lo scorso anno. In realtà abbiamo avuto anche un premio donato dai Musei Vaticani, un ingresso gratuito per ciascun ragazzo e un accompagnatore. Grazie. 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 Grazie.